Sostenuta da testimonial d'eccezione, l'ultima tappa della raccolta firme, quota 2 milioni per la sua candidatura come patrimonio immateriale dell'UNESCO. La decisione il 4 dicembre in Corea del Sud. Quando io ho lanciato durante nel 2014 la petizione Pizza UNESCO non pensavo di arrivare a un esterno di 2 milioni di firme da oltre 100 paesi. È la più grande campagna di sostegno a una candidatura della storia di tutte le agenzie delle Nazioni Unite. Adesso dobbiamo arrivare a vincere e poi a difendere la tradizione dell'arte del pizzico napoletano. Assolutamente è un alimento completo, io poi mi chiamo Margherita per cui la mia preferita ovviamente è quella, la più semplice, la più buona e la più riconoscibile veramente in tutto il mondo.